E' fuori per lavoro ed è il nostro socio collaboratore, amico, simpaticissimo, quello che litiga con tutti quando passate davanti le telecamere tutti i sabati Pietro Albano che oggi fa 47 anni ma non è qui con noi perché è imbarcato e quindi lavora fuori e oggi è sulla nave ma tornerà la prossima settimana e vogliamo fare un esperimento con Nico Cirillo abbiamo pensato di mandargli tutto faccia da faro e gli auguri in diretta perché lui non si può collegare sui social network ma abbiamo noi un canale preferenziale che sulla nave può usare che è Google Plus e lo useremo quindi registreremo questi auguri da parte vostra, da parte di tutti noi e glieli inviamo immediatamente lui già lo sa ci sta aspettando quindi dimmi d'ora Salvo, Salvo dirà il nome Pietro Albano e voi tutti direte auguri e lo registriamo Salvo, salvo a te la parola Sì ho capito, devo dire semplicemente Pietro Albano Pietro Albano Auguri Tanti auguri Buon compleanno Pietro Albano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.